Buongiorno ragazzone e ragazzuole, come state? Io decisamente meglio, infatti ho aspettato giusto in tempo di guarire per farvi questo video così evito di tagliare pezzi di me che cerco fazzoletti in giro per tutta casa. Detto questo, volevo parlarvi del film che sono andata a vedere sabato con dei miei amici a cui è piaciuto tantissimo tra l'altro il film. Non è vero ovviamente, mi pare chiaro dal mio tono di voce. In realtà è piaciuto soltanto a me e a Lauri, gli altri due non erano molto felici e una mia amica l'ha definita orribilmente orribile tant'è io avevo deciso comunque di parlarvene perché è un film che a me è piaciuto molto e soprattutto perché ha una particolarità cioè rispetto al trailer non c'entra assolutamente un tubo fa parte un po' di quel gruppo di film che vi danno un po' un'idea sbagliata vedendo soltanto il trailer ma prima vi dico di che film vi parlo ovvero ho intenzione di parlarvi di The Place Beyond the Pines il cui titolo italiano sarebbe come un tuono in inglese è molto più bello però effettivamente era un po' intraducibile in italiano perché The Place Beyond the Pines che vuol dire il posto al di là del Bosco di Pini sarebbe la traduzione letterale del nome di questa cittadina americana dello stato di New York dove mi è dato il film il nome della cittadina deve essere di origine comunque indiana e per cui tradotto diciamo in lingua inglese vuol dire questo in italiano mi è dato questo titolo che è come un tuono già il titolo forse è un po' fuorviante in più anche il trailer soltanto a me ha dato l'idea di essere vedendo il promo un poliziesco più che quello che effettivamente è cioè chi di voi l'ha visto o forse sono io che ho capito male sta di fatto che io il film sì ho seguito un po' la produzione ho seguito un po' mentre lo giravano soprattutto per via dei due protagonisti mi pare chiaro però dopo ho lasciato diciamo un po' perdere non ho letto critiche ho visto che ne parlavano bene soprattutto perché c'è stata la premiere comunque da poco in America però non mi sono informata più di tanto sono andata al cinema abbastanza mente sgombra di solito sono abbastanza brava e tendo a leggerle dopo le critiche dopo che ho visto il film per vedere se sono io la stordita che magari pensa a certe cose se sono come dire le mie idee sono condivisibili con altri detto questo il film come vi ho detto mi è piaciuto molto brevemente la trama appunto perché non voglio rovinarvela nel caso voi non vi siete fatti un'idea più precisa inizia con questo motociclista stuntman che è interpretato da Ryan Gosling e che si chiama Luke che appunto viaggia di città in città di fiera in fiera perché fa questa come dire acrobazia all'interno di questo cerchio con la moto in una appunto in questa cittadina dal nome impronunciabile il cui significato è The Place Beyond the Pines incontra Romina con Romina ha una storia che dura due anni diciamo ma in realtà è durata qualche giorno il problema è che torna ulteriormente in questa città e scopre di aver avuto un figlio da Romina Romina non è che ha preso la briga di Iliolo lui cos'è che fa? non è che decide di prendere e andarsene di ignorare questa nuova realtà decide di restare perché lui un padre non ce l'ha avuto e dice guarda come sono diventato io non voglio che mio figlio diventi come me per cui voglio dargli un amore paterno voglio dargli delle sicurezze voglio darle anche a te e decide di prendersi queste responsabilità Romina non è molto convinta di tutto ciò per cui lui vuole darsi da fare per cercare di convincerla inizialmente lavora come meccanico dopodiché però capisce che come meccanico non riuscirà mai a guadagnare abbastanza soldi e si mette a fare rapine sulla via delle rapine incontra il personaggio di Bradley Cooper che è questo poliziotto che si chiama Avery Cross Avery Cross avrà tutta un'altra storia che è sì legata a quella di Ryan Gosling ma prenderà poi un altro corso comunque durante il film perché lui prima verrà coinvolto da altri poliziotti in alcuni atti diciamo abbastanza da gang verrà coinvolto nella corruzione nella polizia verrà coinvolto comunque in affari illeciti appunto che questi suoi colleghi poliziotti vanno a fare allora a me era sembrato più un film poliziesco in realtà è vero che c'è tutta una parte legata appunto agli ambienti della polizia però non è soltanto quello è un film più che altro l'avrei definito è un film drammatico è un film che abbraccia anche più generazioni di padri e di figli cosa che io per esempio questa non sapevo generazioni di padri anche che non si vedono perché comunque Luke fa riferimento alla figura paterna che lui non ha avuto e che noi chiaramente non vediamo come un modello da non seguire mentre per esempio Bradley Cooper un padre ce l'ha che noi vediamo ma nonostante il padre allora io ho letto in giro che venga lasciato intendere che non aveva proprio una carriera pulitissima in realtà io questa cosa non l'ho percepito ho più che altro percepito il fatto che lui al figlio stia molto vicino cosa che Bradley Cooper non fa col suo di bambino vuoi per un avvenimento che gli capita ad un certo punto che non gli permette più di interagire con suo figlio perché ovviamente ci sarà questo diciamo punto di svolta all'interno del film per cui le vite appunto di Avery e di Luke si incontrano e cambiano per tutte e due il regista del film che io l'ho scoperto dopo tra l'altro è Derek Sianfrance spero che si pronunci così ma penso di sì chi di voi bazzica il circuito indipendente del Sundance Film Festival bazzica nel senso che gli piace non penso che cioè oddio se c'è qualcuno di voi che lo bazzica fisicamente sono molto contenta per voi sicuramente lo conosce perché la sua pellicola diciamo la sua seconda pellicola è abbastanza famosa ed è Blue Valentine sempre con Ryan Gosling con Michelle Williams film che io vi consiglio di andare a recuperare perché è molto bello tra l'altro penso che sia uscito anche in italiano adesso io l'ho visto in inglese perché tipo l'anno scorso due anni fa non c'era ancora in Italia adesso invece dovrebbe esserci anche quello era un film che toccava delle tematiche che se vogliamo erano banali e scontate ma nel senso di quotidiane cioè realtà che possiamo vedere tutti i giorni ma le trattava in maniera molto schietta e molto reale lo fa anche qui però lui utilizza diciamo le scamotage degli ambienti illegali sia per quanto riguarda le rapine sia per quanto riguarda comunque la polizia perché poi non è che l'illegalità sta soltanto diciamo dalla parte dei criminali i criminali ci sono anche nella polizia e forse è peggio perché comunque hanno sicuramente più potere di un criminalotto qualunque per raccontarci in realtà una storia di famiglia e di padre e di figli come a dirci le colpe dei padri che poi ricadono sui appunto sulla loro progenie vuoi il padre di Luke che era assente per cui Luke vuole essere più presente per suo padre vuoi il padre di Bradley Cooper che come vi ho detto in realtà è abbastanza presente nella vita del figlio ma invece Bradley Cooper non riesce ad essere presente in quella di suo figlio e vuoi per quello che succederà ai loro figli cioè al figlio di Luke Jason e al figlio di Avery e Jane che chiaramente si incroceranno a un certo punto della loro vita è un film molto lungo dura due ore e venti come vi ho detto non è un film adrenalinico come invece può sembrare dal trailer la prima parte del film la primissima è più un dramma sentimentale dopo sì se vogliamo c'è la parte più di azione ma in realtà dopo torna ad essere un dramma comunque appunto di famiglia è un dramma sentimentale e a fare la cornice a tutto ciò appunto c'è questa cittadina questo The Place Beyond the Pines questo bosco di pini che comunque il titolo originale era molto bello perché a pensarci dopo in realtà questo bosco segna un punto di svolta per tanti personaggi perché per esempio è il luogo dove Luke incontrerà questo meccanico che dopo gli consiglia di fare delle rapine perché lui stesso le aveva fatte è il luogo dove ad un certo punto ci si ritrova Avery e decide di tradire tutti i suoi colleghi poliziotti è il luogo dove alla fine fine c'è questa scena drammaticissima e super ansiolitica che voi non sapete cosa sta per succedere chiaramente questa non ve la racconto è un luogo importantissimo ecco sì purtroppo il titolo italiano come un tuono non è che rende tantissimo vi volevo dire all'inizio del video che mi sono dimenticata che il trailer appunto tornando a questo discorso del film mi ha dato una brutta impressione come cioè brutta impressione mi ha dato una impressione sbagliata come fece anche il trailer di Drive che tantissimi pensarono di trovarsi il film alla Fast and Furious e poi invece Drive è tutta un'altra cosa e appunto riallacciandoci qua al discorso Ryan Gosling che era in Drive e che anche in questo film io come voi sapete lo trovo un attore straordinario fenomenale in questo film è pazzesco come lo era in Drive cioè lui è molto bravo quando le emozioni non le deve urlare cioè quando se le deve tenere dentro e quando le mostra soltanto con lo sguardo soltanto con la mimica facciale cioè più che un attore che deve dimostrare la sua bravura parlando e recitando cioè lui riesce a farlo soltanto appunto come vi ho detto con gli occhi c'è una scena bellissima che è questa scena del battesimo del bambino a cui lui assiste da lontano in chiesa perché Romina fondamentalmente non ce l'ha voluto ma anche perché gli è sbucato tipo lì da un giorno con l'altro e per cui che vuoi lui assiste dal fondo della chiesa e a un certo punto inizia a piangere ma non facendo delle scene pazzesche soltanto qualche lacrima che gli scende sul volto è stato come dire una stretta al cuore quella scena cioè lui di improvviso è lì che guarda suo figlio e poi lacrime cioè lacrime che possono essere di gioia di disperazione perché comunque lui non è lì a tenere in braccio suo figlio sa di fatto che la potenza le emozioni che è riuscita a trasmettere con quella scena soltanto piangendo soltanto facendoci scendere due lacrime è stata fortissima è un attore straordinario cioè io mi ricordo anche la scena finale di Lady Di Marzo cioè questa inquadratura finale lui che alza gli occhi e guarda in camera era raggelante e penso che sia uno di quegli attori che lui verrà sempre lo dato dalla critica ma purtroppo non verrà mai premiato dalla critica come sono tanti altri attori che piacciono sempre molto ma in realtà poi non vincono ma è un tubo Bradley Cooper ciao sere spero tu ti sia ripreso dai tuoi problemi ormonali nei confronti di grande Manzo Cooper che è un attore che avevo detto già nel video in cui vi parlavo del lato positivo è un attore che è migliorato tantissimo nel corso degli anni ma io ho sempre trovato comunque molto bravo anche lui forse la mia immagine era troppo legata comunque al suo ruolo in Una notte da leone cioè un ruolo più comico sta di fatto che è come vi dicevo uno di quegli attori che quando trova il regista giusto dà veramente il meglio di sé ha un ruolo se vogliamo un pochino più controverso rispetto a quello di Ryan Gosling perché Ryan Gosling è vero che è il bandito è vero quello che fa le rapine in banca però da un certo punto di vista è più condivisibile diciamo sono più condivisibili le sue scelte il ruolo di Bradley Cooper è un pochino più quello della carogna per certe scelte che lui fa più o meno diciamo volontariamente nel senso che forse viene spinto a dire una certa cosa a un certo punto del film dai superiori dal suo capo più che forse per quello che vuol dire lui veramente non so spiegarmi sta di fatto che dopo questa diciamo cosa che dirà implicherà una scelta che si porterà di tutta la vita e vivrà con dei sensi di colpa mostruosi per tutta la vita sensi di colpa che comunque lui non ci mostra più di tanto se non in determinate occasioni no e forse è questa la sua bravura cioè il fatto di riuscire a celare quello che il suo personaggio effettivamente pensa tranne in alcune scene in cui lui cerca di rimediare questa cosa ma non ci riesce perché agli altri non glielo permettono perché lui comunque non è un personaggio diciamo così di polso come era il personaggio di Ryan Gosling che era molto più impulsivo se vogliamo mentre il personaggio di Bradley Cooper è un pochino più sottotono e fa più fatica a imporsi fino ad un certo punto del film chiaramente dopo in realtà anche lui trova la maniera di farlo straordinaria la fotografia tutti questi lunghi piani sequenza soprattutto quello iniziale in cui la camera segue Ryan Gosling all'interno di questa fiera finché lui appunto non salta in sella la moto e altri piani sequenza all'interno del film questo per dire che si vedono per cui si è vero che li ho notati però non sono così eccessivi e buttati all'interno del film giusto per far vedere guarda sono un regista figo che ti fa il piano sequenza cosa che tanti registi non sanno fare infatti te li piantano in mezzo giusto per far vedere quanto sono bravi ma poi in realtà sono soltanto una roba pesantissima e insopportabile in questo caso sono ben gestiti e ben fatti nel senso sa come muovere la camera il regista io vi consiglio di andarlo a vedere fatemi sapere che cosa ne pensate quando l'avete visto andate a vederlo al di là del fatto che ci siano Ryan Gosling e Bradley Cooper fatemi sapere le vostre impressioni se vi è piaciuto se non vi è piaciuto ho trovato la fine molto bella del film da una parte perché comunque come vi ho detto sono comunque due le storie che ci vengono raccontate da una parte è tremenda nel senso che voi dite sì vabbè ok che hai fatto alla fine dall'altra invece c'è questa scena evocativa dell'inizio che vi riporta all'inizio del film che è bellissima e ha fatto anche commuovere la mia vicina di sedia ho trovato molto brava anche Eva Mendes non ve l'ho detto prima che stranamente si è tratta un po' con la patina della bonona Rose Byrne è presente all'interno del film ma in realtà fa un ruolo un po' sfigato che se poi sarebbe la moglie di Bradley Cooper però insomma non si vede più di tanto e poi c'è dentro anche Ray Liotta che fa il ruolo della polizia toccarogna ormai fa soltanto quello ma d'altronde con la faccia che si ritrova non è che può fare molto altro e niente io vi auguro buona visione buon Ryan Gosling o buon Bradley Cooper voi signorine fatemi sapere di quale dei due partiti siete Ryan Gosling o Bradley Cooper così ho curiosità mia per sapere quale dei due vi piace di più vi mando un bacio ciao